Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui ed egli entrato in casa del fariseo si mise a tavola ed ecco una donna che era in quella città una peccatrice saputo che egli era a tavola in casa del fariseo portò un vaso di alavastro pieno di olio profumato e stando ai piedi di lui di dietro piangendo cominciò a bagnarli di lacrime i piedi e gli asciugava con i suoi capelli e gli baciava i piedi e gli ungeva con l'olio il fariseo che lo aveva invitato veduto ciò disse fra sé costui se fosse un profeta saprebbe chi e che tipo di donna ecco lei che lo tocca perché è una peccatrice e gesù rispondendo gli disse simone ho qualcosa da dirti ed egli maestro di pure un creditore aveva due debitori l'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50 e poiché non avevano di che pagare condonò il debito a tutti e due chi di loro dunque lo amerà di più simone rispose ritengo sia colui al quale ha condonato di più gesù gli disse hai giudicato rettamente e voltatosi verso la donna disse a simone vedi questa donna io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi ma lei mi ha bagnato i piedi di lacrime e gli asciugati con i suoi capelli tu non mi hai dato un bacio ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi tu non mi hai versato l'olio sul capo ma lei mi ha cosparso di olio profumato i piedi perciò io ti dico i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato ma colui a cui poco è perdonato poco ama poi disse a lei i tuoi peccati sono perdonati quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi chi è costui che perdona anche i peccati ma egli disse la donna la tua fede ti ha salvata vai in pace un caro saluto a tutti da siena canto nuovo eccoci ancora una volta insieme per commentare il glorioso vangelo scritto da luca quella buona notizia del regno dei cieli che tanto ci fa meravigliare degli attributi divini che esprime il messia e delle virtù umane che al contempo traspaiono della sua condotta per quell'alta moralità che lo contraddistingue ebbene siamo arrivati a un punto dove c'è un un evento un episodio molto importante al diciamo capitolo 7 del vangelo scritto da luca dove gesù entra in casa di uno dei farisei che poi sappiamo chiamarsi simone questo è uno dei tre episodi delle tre cene o dei tre pasti che gesù prende con i farisei ricordo per tutti oltre a questo episodio nel capitolo 7 c'è un altro episodio al capitolo 11 verso 37 ecco dove si narra di un fariseo che invitò a pranzo gesù e in quell'occasione gesù ebbe modo di dire ai farisei che loro puliscono l'esterno della coppa e del piatto ma il loro interno è pieno di rapine e malvagità ricorderete questo è il verso 42 del capitolo 11 che disse guai a voi farisei perché pagate la decima della menta della ruta di ogni erba e trascurate la giustizia e l'amore di dio queste sono le cose che bisognava fare senza trascurare le altre l'altro episodio l'ultimo pasto preso da gesù con i farisei e al capitolo 14 dal capitolo 1 dove si narra che gesù entrò di sabato in casa di uno dei principali farisei per prendere cibo e essi lo stavano osservando qui arrivò poi un uomo idropico ed egli lo guarì era giorno di sabato e nacque il solito problema della guarigione in giorno per i farisei proibito per compiere questi atti ebbene nel capitolo 7 l'episodio è un po più diciamo alternativo rispetto agli altri due nel senso che i personaggi non sono solo i farisei e gesù ma si intromette diciamo sulla scena una donna una peccatrice che mentre gesù era a tavola con i farisei questa donna entrò saputo che era a tavola in casa del fariseo e portò un vaso pieno di olio profumato e è molto singolare che questa donna che era peccatrice e quindi sappiamo che i peccatori erano considerati disprezzate persone disprezzate da gente come i farisei cioè potevano essere prostitute ladri pubblicani e naturalmente per una donna del genere entrare nella casa di un fariseo e anche compiere l'azione che poi ha compiuto questo richiedeva molto coraggio perché si esponeva al disprezzo e ad essere cacciata oltre che anche a varie altre conseguenze possibili di ordine diciamo sociale ebbene nonostante il pericolo rappresentato da questo suo ingresso questa donna non sappiamo chi è la fosse forse alcuni dicono che era Maria di Betania la sorella di Lazaro altri Maria Maddalena ma in realtà il suo nome non è non è menzionato ecco portato questo vaso di olio profumato si mette in una posizione stranissima voi saprete che a quel tempo non è che c'erano i tavoli e le sedie per potersi mettere a tavola e mangiare ma si mangiava reclinati a seduti a terra e quindi questa donna si mette dietro a Yeshua e ai piedi di dietro cominciò a piangere e a bagnare i piedi del Messia con le sue lacrime e poi asciugava questi questi piedi con i suoi capelli e glieli baciava e gli ungeva con olio quindi prima li ha lavati e dopo li ha unti con l'olio dopo che li ha asciugati con i suoi capelli se riuscite a immaginare la scena è molto vivida perché la donna si posiziona diciamo dietro il maestro e ai suoi piedi quasi non curante dell'imbarazzo e dello stupore che deve aver causato in tutti gli altri dopo scopriremo qual era il motore di questo suo coraggio e qual era la motivazione ed il fine di questa sua azione così coraggiosa fatto sta che mentre ella compiva questa azione il fariseo questo simone che aveva invitato Yeshua vide questa donna che ungeva il signore e cominciò a pensare tra sé alcune cose anzi disse fra sé forse a bassa voce se fosse costui un profeta saprebbe chi e che tipo di donna è quella che lo tocca perché è una peccatrice quindi esprime il disprezzo verso questa donna ed esprime anche una certo disprezzo una disapprovazione un disvalore nei confronti di Gesù perché non sapeva chi fosse questa donna e le permetteva di fare quello che stava facendo da notare che che cosa consisteva il disvalore espresso nei confronti del Messia nel dire che costui non era un profeta eppure sappiamo se prendiamo il capitolo 7 sempre lo stesso capitolo verso 11 in avanti Gesù che si avviò verso una città chiamata Naim e i suoi discepoli e una gran folla andavano con lui trovò che si portava un morto alla sepoltura era figlio unico di sua madre che era vedova e molta gente della città era con lei e il signore veduta la ne ebbe compassione ebbe pietà e disse non piangere toccò la bara e disse ragazzo dico a te alzati risuscitò il figlio di questa donna e si dice che tutti quanti quando videro questo furono presi da un grande timore glorificavano Dio dicevano un grande profeta è sorto tra noi Dio ha visitato il suo popolo e questo dire intorno a Gesù si divulgò per tutta la Giudea per tutta la regione circostante ho letto capitolo 7 dal verso 11 al verso 17 bene se questa era la fama che si era sparsa in tutta la regione circostante perché Gesù aveva risuscitato un ragazzo morto e dissero è un grande profeta che tra di noi il fariseo poiché egli non aveva riconosciuto la peccatrice perché nel suo pregiudizio riconoscendo la peccatrice avrebbe dovuto impedirle di fare quello che stava facendo questo era il ragionamento che lo portava a dire che quindi Gesù non era un profeta perché se era un profeta avrebbe dovuto sapere che tipo di donna costei fosse Gesù rispondendo gli disse Simone ho qualcosa da dirti qui c'è il Signore che interviene quest'uomo deve aver borbottato fra di sé qualche cosa le parole che poi sono scritte sul Vangelo e Gesù senza altro dirli si riferì a lui dicendogli ti devo dire qualcosa e questo disse di pure maestro ed ecco qui il Signore inizia con una parabola cioè narra una storia che è piuttosto significativa e cioè dice un creditore aveva due debitori naturalmente nello stile tipico del Messia le parabole che egli raccontava comprendevano sempre o spesso appunto i personaggi che egli aveva davanti per renderli partecipi affinché riconoscendosi nei personaggi della storia narrata potessero far proprie anche tutte le circostanze che venivano sottese alla storia che veniva raccontata e allo stesso tempo il Messia anche introduce se stesso nella parabola nella storia perché possano i personaggi e cioè le persone che aveva di fronte comprendere chi avessero davanti a loro bene dunque qui abbiamo un creditore che aveva due debitori e quindi è chiaro che qui la storia ha questi personaggi il creditore è Gesù stesso e i due debitori sono Simone il fariseo e la peccatrice che ungeva ai piedi del Messia l'uno gli doveva 500 denari l'altro 50 avevano due debiti ma di diverso valore poiché non avevano di che pagare condonò il debito a tutti e due e poi la domanda è questa chi di loro dunque lo amerà di più ecco vedete che nella storia è evidente che nessuno dei due né il fariseo che riteneva di essere un giusto né la peccatrice che pur sapendolo di essere appunto coraggiosamente si era avvicinata al suo signore per ungellipiedi nessuno dei due aveva di che ripagare per i propri peccati il debito che essi avevano con colui che era il loro creditore ebbene il creditore perdona e condona i debiti ad entrambi e la domanda è chiara dice chi amerà di più il creditore e Simone rispose quello a cui il creditore ha condonato di più e Gesù disse hai giudicato rettamente quindi qual è il contenuto della della storia il contenuto è tale che a colui al quale più si perdona o si condonano i debiti in costui tanto più sorgerà un sentimento d'amore verso colui che ha avuto pietà e che lo ha perdonato quindi il contenuto è questo c'è un debito non pagabile un creditore buono che rimette il debito senza condizione senza chiedere nulla in cambio e il credito è il debitore che ama colui che lo ha che gli ha condonato debiti come risposta all'azione di misericordia che gli è stata riservata ecco quindi la storia è abbastanza chiara nel contesto con i personaggi che abbiamo così identificato poi voltandosi verso la donna disse a Simone vedi questa donna ed ecco a questo punto Gesù entrando nel contesto vivo e riferendosi ora ai due personaggi cioè Simone la donna che in carne ed ossa aveva davanti e che erano gli stessi personaggi della storia rivolgendosi a lui gli dice vedi dunque questa donna io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi ma lei mi ha lavato i piedi con le lacrime e le asciugate con i suoi capelli quindi sottolineo che il fatto che ha un ospite invitato in casa non venga dato venga data l'acqua per lavargli i piedi era un segno piuttosto rude piuttosto di maleducazione questo sta ad indicare che Gesù non era stato invitato ad una festa o il fariseo che l'aveva invitato non è che l'aveva invitato per poter celebrare con lui la sua presenza bensì naturalmente come al solito sarebbe stata una trappola qualcosa del genere si vede appunto questo è un segno di disprezzo in realtà poi si dice dice al verso 45 tu non mi hai dato un bacio ma lei da quando è entrato non ha smesso di baciarmi i piedi e cioè te non hai avuto nessuna educazione verso di me dandomi dell'acqua tu non hai avuto nessun gesto di amore di affetto verso di me mentre ella non ha mai smesso di baciarmi non mi hai versato l'olio sul capo ma lei mi ha cosparso di olio profumato i piedi quindi la morale qual è fa vedere che dei due debitori che erano stati entrambi perdonati dal creditore una fa delle azioni di affetto di dimostrazione di amore di riconoscenza e gratitudine ben maggiore di quell'altro che sarebbe simone il fariseo dunque secondo la storia sarebbe da dire dunque a chi è stato condonato di più e la risposta che io darei e che va data secondo l'impostazione di yeshua è proprio questa colui che ama di più il creditore che ha condonato il debito in questo caso sarebbe la donna quindi già da questo possiamo vedere la conclusione che gesù dice perciò ti dico i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato ma colui a cui poco è perdonato poco ama voglio spiegare bene questo questo passo perché molte volte questa parabola è stata interpretata a mio avviso in modo erroneo e cioè dicendo che quanto più uno ama tanto più è perdonato dei suoi peccati come se l'amore fosse un detergente che ci porta ad essere perdonati dei peccati o assolti dai propri debiti e in realtà questo è proprio il contrario di quello che dice il signore poiché secondo la storia narrata e poi l'illustrazione reale fatta sui due personaggi che gli aveva presente il concetto è proprio il contrario e cioè colui a cui è perdonato di più ama di più e cioè l'amore è una conseguenza del perdono ricevuto e della pace che il debitore condonato ottiene nel suo cuore è un'azione di amore e di gratitudine al contempo sicuramente al contrario facendo nell'altro modo sembra quasi che i peccatori potessero in qualche modo procurarsi il perdono attraverso gesti di affetto e dimostrazione di amore o di gratitudine come per ringraziarsi colui che aveva il potere di perdonare ecco questa interpretazione piuttosto religiosa laddove appunto con le opere ci si conquista la grazia sovverte un po' quello che è l'insegnamento del messia e lo volevo un po' dire per riportare giustizia su questo episodio che tanto spesso è stato così male interpretato e difatti dopo le disse a lei i tuoi peccati sono perdonati ora per poter capire bene questo vorrei riportarvi a un aspetto importante il perdono è una cosa di dio se si fa riferimento per esempio a isaia ecco 43 25 che ci fa capire un passo dove quello che sto dicendo è scritto isaia 43 25 dice io io sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non mi ricorderò più dei tuoi peccati qui è dio che parla dunque è dio soltanto che può perdonare i peccati di un'affermazione di questo genere che yeshua aveva già fatto per esempio ricordate il paralitico portato dagli amici e calato dal tetto dalla presenza di yeshua che poi fu guarito per dimostrare che egli aveva il potere di perdonare i peccati ebbene anche lì ci fu un grande scalpore perché si dice chi è costrui che osa farsi simile a dio che dice i tuoi peccati sono perdonati e qui in casa del fariseo dice la stessa cosa perché perché te il frutto del perdono nel tuo cuore è l'amore verso verso il tuo dio che ti ha perdonata è la gratitudine amorevole verso colui che ti ha perdonato e quindi dicendo ti sono perdonati tutti i peccati lui è la fonte del perdono che lei ha ricevuto e anche di quel personaggio quindi della storia dove yeshua era appunto il creditore quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire chi è costrui che perdona anche i peccati vedete la reazione è sempre la stessa ma l'antefatto che ho narrato citando per esempio isaia 43 fa capire quale poteva essere lo scandalo lo sdegno provocato in queste persone e Gesù conclude così ma egli disse alla donna la tua fede ti ha salvata va in pace dunque che vuol dire è la tua fiducia la tua fedeltà che ti ha salvata dunque c'è qui salvata da cosa dai tuoi peccati e poi come dice va in pace dunque c'è qui una sequenza che yeshua fa vedere chiaramente e cioè è questa la fede per fede si ottiene il perdono e quindi la grazia di dio in noi produce il perdono e la salvezza e questo produce la pace dalla quale scaturisce l'amore e la gratitudine verso dio che ci ha salvati per grazia attraverso la fede quindi questo è il viatico questo è l'ordine se vogliamo attraverso il quale noi possiamo approcciare le situazioni concrete della vita e capire appunto che l'amore che alcune persone manifestano verso dio e quell'affetto grato con il cuore pieno di gratitudine verso il signore è il segno di un perdono preso a piene mani di un perdono sentito che è frutto della grazia di dio della sua misericordia che ha trovato la fede in quel cuore e che l'ha colto quindi il nostro il nostro se vogliamo dire la nostra interpretazione che non è semplicemente una lettura oggettiva direi scevra da retaggi e pregiudizi religiosi che spesso sovvertono anche le cose più chiare perché pur essendo chiare molte persone le leggono in un altro modo io con tanti ho parlato e questo episodio per loro voleva dire che chi più ama dio più ottiene il perdono dei suoi peccati ecco si arriva a tanto con i pregiudizi a sovvertire anche l'ordine più semplice oggettivamente rilevabile delle cose che abbiamo sotto gli occhi quindi invito tutti quanti a leggere il vangelo con la semplicità di un bambino e cioè con quella semplicità che dice leggi quello che c'è scritto e non quello che ti hanno sempre detto che c'è scritto affinché tu possa comprendere esattamente non tanto solo le parole scritte ma il cuore di dio il cuore del messia verso le persone da questo episodio traspare tutta la sua tenerezza non solo con la donna ma anche con simone per il quale prende tempo per poter spiegare qual è l'ordine divino nella vita e per poterlo avvicinare a sé attraverso un'illustrazione pratica che mettesse in luce il suo debito verso dio e la sua possibilità di ottenere il perdono solo se avesse la fiducia e la fedeltà di quella donna potrebbe anche lui avere la pace dopo aver trovato la salvezza dai propri peccati dunque riassumendo i peccatori sono perdonati per la loro fede nel signore non per il loro amore chi è salvato cioè perdonato segue il signore e lo serve nei suoi bisogni chi è perdonato ancora dirà poi alla vedete che in questa in questa sequenza di di narrazione se se voi prendete il capitolo 8 dal verso 1 al verso 21 troverete altri due episodi e cioè dove gesù parla di una lampada sul candeliere dice che nessuno mette una lampada e la copre ma la mette sul candeliere perché chi entra vede la luce e non c'è niente nascosto che non debba essere manifestato e attenti dunque a come ascoltate perché a chi ha sarà dato a chi non ha anche quello che pensa di avere gli sarà tolto e poi altro episodio dove lui dice che la sua madre e i suoi fratelli vennero a trovarlo ma non potevano avvicinarsi per la folla le dissero ma certo madre e i tuoi fratelli fuori leggo capitolo 8 verso 19 seguenti che ti cercano vogliono vederti ma gli rispose mia madre i miei fratelli sono quelli che ascoltano la parola di dio e la mettono in pratica dunque da questa da questo combinato disposto della fine del capitolo 7 e poi l'inizio del capitolo 8 nello svolgimento della narrazione dei fatti troviamo che da una parte abbiamo l'aspetto della salvezza del perdono dei peccati della fede nel cuore delle persone e della pace che se ne ottiene e dall'altra abbiamo che come abbiamo letto nel capitolo 8 chi è perdonato poi ama il signore lo segue e lo serve e poi dovrebbe crescere nella vita e splendere come una lampada perché si vedano le sue opere giuste e tutti possano glorificare di dio alla fine chi si sviluppa nella vita spirituale con il signore dopo aver ricevuto questa salvezza diventa un parente un familiare di gesù ecco questo è l'estensione massima di la tensione a cui a cui diciamo possiamo portare la storia l'episodio che abbiamo narrato la sua estensione massima è in questa possibilità per tutti coloro che essendo perdonati e poi amano il signore lo seguono non solo mettono in mostra la luce che fanno con le opere sante che compiono nel seguire gesù e nel servito nei suoi bisogni ma anche diventano suoi familiari perché ascoltano la parola di dio e la mettono in pratica sia la simone che la donna come abbiamo detto sono i due debitori di gesù nessuno può ripagare il debito cerco un po di riassumere il debito che hanno con la giustizia di dio perché essere in debito con dio fa sì che essendo dio giudice buono non può non applicare la giustizia quindi è necessario l'intervento del salvatore che offrendoci il perdono dei suoi dei nostri peccati attraverso il suo sacrificio di espiazione per noi ci ottiene la salvezza proprio da quei peccati e ci dona la pace la causa dell'amore dei due debitori è il perdono del creditore la donna dovrebbe essere un esempio per simone il fariseo e il grande amore della donna è la prova che l'era stato perdonato molto simone invece aveva sperimentato poco il perdono di dio è per questo che amava poco infatti non gli ha dato l'acqua per lavare i piedi non gli ha dato un bacio di affetto e neppure lo ha unto con l'olio come si conviene agli ospiti di riguardo è la fede che ha ottenuto il perdono e quindi per la fiducia che questa donna ha avuto in jesua le sono stati perdonati i peccati la tua fede ti ha salvata va in pace ci viene in mente sicuramente il passo di paolo scritto da paolo dove si dice che la fede opera per mezzo dell'amore cioè l'amore è il risultato attivo ed esternamente manifesto della fede interiore che ci accosta al salvatore e ci ottiene il perdono dei nostri peccati quanto è bello sapere che quando noi mostriamo amore verso le persone verso il signore quello è un segno attraverso il quale sta operando la nostra fiducia proprio nel messia che ci ha salvati dai nostri peccati ricordiamo fede amore pace le virtù necessarie per poter seguire gesù e splendere come lampade essendo suoi familiari con queste riflessioni salutiamo tutti con tanto affetto e vi rimandiamo alla prossima sessione sempre sul vangelo scritto da luca un caro saluto a tutti da siena canto nuovo grazie a tutti grazie a tutti